Le pietre dei Gonzaga, le cose buone della nostra terra, il teatro, le danze, la cucina. Una comunità si incontra. Quelli che si danno da fare per tutti, quelli che costruiscono ponti, quelli che guardano il mondo. E il mondo è casa nostra. Il mondo è casa nostra. Novellara, città accogliente.